Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e la variante di Valico per il transito di trasporti eccezionali. Sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo-Fiorentino. Rallentamenti in direzione mare tra Ginestra-Fiorentina e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!